ho terminato il cestino multiuso ho lavorato anche dei sottotazza sotto bicchieri sempre con del materiale di riciclo questa è della rafia sintetica e cestino invece l'ho lavorato con lo spago da cucina sia il fondo del cestino che sotto tazza o sotto bicchieri come li volete chiamare hanno lo stesso diametro all'incirca 9 cm vi faccio vedere la lavorazione del cestino se volete fare anche voi sotto tazza o i sottobicchieri lavorate semplicemente il fondo andiamo ad avviare un cerchio magico ci agganciamo con un punto catenella e all'interno andiamo a lavorare sei punti bassi 1 2 3 4 5 e 6 andiamo a stringere l'anello e vi faccio vedere una chiusura alternativa che non va a creare quella anti estetica riga che si viene a formare nella chiusura giro delle lavorazioni geometriche sto usando uno spago in juta sono tutti materiali di rimanenza da altre lavorazioni vedete che ho sfilato l'uncinetto vado a cercare la parte superiore del primo punto di lavorazione del giro le due catenelle le due catenelle le cerco di allargarle un pochettino volto il lavoro entro nel punto che ho allargato il primo punto di lavorazione del giro sottostante vado a prendere la solina che avevo sfilato dall'uncinetto e che l'ultimo punto di lavorazione e lo tiro semplicemente fuori in questo modo dalla parte rovescia porto di nuovo il lavoro e riprendo la mia lavorazione nel secondo giro andiamo a lavorare tutto un giro di aumenti e lavoreremo due punti bassi per ogni punto di base siamo partiti con sei punti quindi nei giri successivi gli aumenti andranno a rispettare i punti di partenza o meglio in ogni giro noi andiamo ad aumentare di sei punti un giro lo andiamo ad avviare con i punti singoli un altro giro io l'ho avviato direttamente con gli aumenti per fare in modo che gli aumenti stessi si vadano a distribuire in modo differente durante tutta la lavorazione e diano una forma più definita al cerchio allungo leggermente la solina vado nel primo punto laddove ho chiuso il giro e lavoro i miei due punti bassi del primo aumento se andate a lavorare con dei filati come i miei tipo lo spago lo spago di juta o la rafia o la fettuccina il cordino fate in modo che la lavorazione sia morbida e la tensione non troppo stretta altrimenti non riuscirete ad entrare nei punti vado nel punto successivo il lavoro il secondo aumento e continuo in questo modo fino a completare tutto il giro alla fine del quale avremo 12 punti ho terminato lavorando tutti i miei aumenti alla fine del giro 12 punti e andiamo a fare la chiusura come abbiamo fatto prima sfiliamo l'uncinetto cerchiamo di allargare un pochino nel caso sia stretto la parte superiore del primo punto del giro voltiamo il lavoro entriamo da dietro nel primo punto di inizio giro peschiamo l'anellino della maglia che abbiamo sfilato dall'uncinetto e la facciamo passare attraverso il punto voltiamo di nuovo il lavoro e andiamo a lavorare il terzo giro quando chiudete i giri tirando fuori l'anellino se occorre tirate un pochino il filo di lavorazione per andare ad assestare la maglia il terzo giro lo avviamo con il punto singolo quindi entro di nuovo nella maglia in cui ho chiuso il giro adesso e vado a lavorare il punto singolo in quello successivo l'aumento quindi vado a lavorare due punti bassi nello stesso punto di base un punto singolo in quello successivo e continuo per tutto il giro lavorando uno un punto singolo tra un aumento e l'altro quindi vado a lavorare l'aumento perché il punto singolo l'ho lavorato e vado a concludere il terzo giro ho concluso anche il terzo giro e lo andiamo a chiudere come per i giri precedenti sfiliamo l'uncinetto da dietro entriamo nel primo punto di lavorazione prendo la solina che ho sfilato la tiro attraverso il punto e chiude il mio giro volte il lavoro sul davanti e cominciamo con il quarto nel quarto giro partiremo direttamente con il primo aumento quindi vado nel punto in cui ho chiuso adesso il giro il lavoro l'aumento 1 e 2 nel quarto giro tra un aumento e l'altro andiamo a lavorare due punti singoli nei due punti successivi quindi lavoro il primo 1 nel successivo vado a lavorare il secondo punto singolo vado a lavorare l'aumento e completo il giro lavorando i due punti singoli tra un aumento e l'altro ho terminato anche il quarto giro e se state lavorando correttamente dopo l'ultimo aumento vi dovrete trovare i due punti singoli da lavorare 1 e 2 e andiamo a chiudere il giro come abbiamo fatto per i precedenti se la parte superiore del punto è stretta andiamo ad allargare facendo passare l'uncinetto attraverso le due catenelle e poi da dietro andiamo a chiudere il giro vedete quando vi dicevo di tenere la tensione del filo morbida altrimenti si ha difficoltà nel lavorare vado dietro nel punto prendo la solina e chiudo il giro nel quinto giro andremo a lavorare tra un aumento e l'altro tre punti singoli se ci avete fatto caso in ogni giro tra i due aumenti andiamo ad aumentare di un punto i punti singoli che li separano in questo giro andremo ad iniziare con i punti singoli quindi rientro nel punto in cui ho chiuso il giro e vado a lavorare il primo punto basso lavoro il secondo che lavora il terzo nel quarto punto del quinto giro vado a lavorare l'aumento 1 e 2 e continuo lavorando i tre punti singoli che mi separano dal prossimo aumento 2 e 3 vado a lavorare l'aumento e alla fine del giro se avete lavorato correttamente sull'ultimo punto vi ritroverete a dover lavorare l'ultimo aumento del quinto giro sono alla fine del giro ho lavorato i miei tre punti singoli e mi ritrovo a lavorare come vi dicevo l'aumento sul punto finale quindi vado a lavorare l'ultimo aumento di questo giro e chiudiamo come per i precedenti vado ad allargare un pochino la parte superiore del primo punto di lavorazione di questo giro vedete che ho già sfilato il punto volto il lavoro entro da dietro prendo la solina e vado a chiudere il giro andiamo a lavorare il sesto giro e in questo giro partiremo direttamente con l'aumento e tra un aumento e l'altro andiamo a lavorare quattro punti di separazione al termine dopo l'ultimo aumento ci ritroveremo col dover lavorare i quattro punti singoli prima di chiudere il giro quindi rientriamo nel punto in cui abbiamo chiuso il giro e lavoriamo l'aumento con uno e due punti bassi i quattro punti che dividono un aumento dall'altro sui quattro punti successivi 2 3 e 4 e di nuovo l'aumento i quattro punti singoli fino al prossimo aumento 2 3 e 4 e il terzo aumento e continuiamo in questo modo fino a completare tutto il sesto giro sono arrivata al termine anche del sesto giro ho lavorato all'ultimo aumento e mi ritrovo giusto i quattro punti singoli da lavorare completo il giro e chiudiamo come per i giri precedenti entrando da dietro nel primo punto di lavorazione e tirando fuori la solina dell'ultimo punto ecco qui quindi moltiamo il lavoro entriamo il punto estraiamo la solina e andiamo a chiudere anche il sesto giro se abbiamo raggiunto la misura del diametro che a noi serve affranchiamo e tagliamo il filo se invece abbiamo esigenza di aumentare ancora il diametro del nostro cerchio andiamo a lavorare nel giro successivo 5 punti singoli tra un aumento e l'altro se dobbiamo aumentare ancora nell'ottavo giro lavoriamo l'aumento e 6 punti singoli tra un aumento e l'altro e così via fino ad arrivare alla misura che a noi serve alternando i due giri uno nel quale iniziamo con l'aumento e l'altro nel quale iniziamo con i punti singoli ricordandovi di aumentare per ogni giro in più un punto singolo tra un aumento e l'altro io ho raggiunto il diametro che mi serve e adesso andremo a lavorare per l'altezza del cestino io ho già lavorato un altro fondo dal quale ripartiremo per lavorare l'altezza del cestino e qui potete vedere meglio come la chiusura giro nel modo in cui l'abbiamo fatta è letteralmente inesistente e il cerchio mantiene perfettamente la sua forma circolare